e buon salve a tutti signore e signori incredibile ma vero è due giorni, anzi tre perché questo lo sto facendo proprio oggi tre giorni che non ci sono news è una cosa abbastanza particolare quindi che ho detto, posso rimanere senza fare video? no! quindi sono tornato a casa finalmente quindi posso fare un nuovo episodio di a spasso con borno signori e signori che bello ho fatto, lo sentite questo rumore? sono io con la mano che faccio tipo esplosione non so come spiegarlo però sta di fatto che è una cosa strana non so perché lo faccio ma siamo qui e vi racconto cosa andremo a guardare oggi oggi guarderemo una bella cosa M Gengar esattamente guardate un po' che cosa ho scritto Mega Gengar X ovviamente cosa troviamo? ovviamente stiamo parlando di sì andiamo in immagini, vediamo subito stiamo parlando della carta di Mega Gengar e come potete vedere ha subito, preciso, spaccato c'è ovviamente questa carta qua che non ci interessa perché comunque sia una un fake ovviamente stiamo parlando di una una carta che assomiglia molto a una Prime sì in versione ovviamente fan made che vuol dire che è stata fatta da un fan insomma di uno tipo Deviant o cose del genere che non ha niente da fare per carità molto bello assomiglia a quello che è la carta vera però non ci azzecca assomiglia niente è stata creata il 25 gennaio 2014 quindi Mega Gengar già esisteva sì? o no? sì sì già Mega Gengar esisteva però insomma diciamo una cosa molto bella ma non è quello che ci interessa comunque abbiamo capito quello a cui vogliamo parlare ossia una bella carta no ho fatto una stupidaggine scusate una carta che raffigura Mega Gengar X ma è una versione molto particolare perché che cosa avete letto nel titolo Mega Gengar diventa shiny per Halloween che cosa vuol dire? che se noi torniamo indietro vediamo sia questo che è il Mega Gengar normale che ovviamente è quello di Forze Spettrali vediamo se ce lo fanno vedere sì eccolo qui vediamo se ce la fa aprire sì assolutamente ce la fai aprire col cacchio proprio sì sì ce la fai aprire apri il Vio Sesamo esatto come potete vedere ne abbiamo già parlato perché è in una news un po' insomma no datata perché comunque si ha nessuna news cioè sì una news un po' datata ok ammettiamolo Born stai tranquillo devi ammetterlo era una news datata ok sì va bene Born non lo faccio più bravo Born adesso stai seduto e ascolta quello che dico va bene ok adesso se ne è ritornata a posto e come potete vedere insomma questa è la carta originale che noi andremo a vedere se siamo fortunati il 5 novembre in un pacchetto perché insomma io aprirò un pacchetto di anzi uno o tre o sei non lo so questo qua è una cosa che devo ancora decidere di questo set che uscirà appunto il 5 novembre e questa è la carta normale quindi ho pensato ma chissà perché è troppo bella questa carta chissà se ne faranno delle varianti allora ridendo scherzando andando in giro sono andato a a capitare per sbaglio ed è da un po' che ho questa immagine sul computer vediamo se l'avete già capito ma penso di sì insomma si vede abbastanza bene in una carta che sinceramente io non pensavo che avrei mai visto una cosa del genere perché non ce la fai vedere ce l'aprirai oh sì guardate qua esattamente Mega Gengar in versione shiny che cosa da che cosa lo vedete perché uno l'immagine è completamente diversa da quella che abbiamo visto prima se volete potete tornare indietro nel video e rivederla e comunque sia è diversa ma soprattutto è bianco quindi stiamo parlando di Mega Gengar shiny io qui ho il biglietto per prenderlo direttamente su su Pokemon X e Y che prendete da GameStop in questi giorni e c'è giustamente scritto quando tu lo ottieni Gengar di di diverso colore quindi di colore cromatico che durante la Mega Evoluzione assume un colore bianco terrificante il che è vero vederlo bianco è veramente fantastico questa carta ho detto porca cazzozza chissà se esiste veramente la devo andare a cercare devo andare a cercare sono tornato insomma nei meandri di Youtube che si sa Youtube ti dice sempre tutto e ho visto un video davvero illuminante che cosa ha detto che questa carta ritorniamo qui magari facciamo un ingrandimento insomma così la potete vedere più o meno con le due differenze quindi Mega Gengar a sinistra qui in versione normale Mega Gengar shiny che cosa succede che questa è una carta che è molto 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 limitata molto particolare perché sarà distribuita solo ed esclusivamente fino ad Halloween dove questo ovviamente in Giappone non avrà nessun tipo di traduzione quindi rimarrà giapponese e basta e la sua produzione verrà stoppata ad Halloween quindi questa è una distribuzione promozionale che farà di questa carta una carta introvabile indovinate un po' Born l'ha comprata solo per voi no solo per voi sì e soprattutto per me ma anche per voi perché ve la farò vedere in un video appena arriverà da ebay vi avverto ragazzi fatelo in fretta perché intanto uno più vai avanti col tempo e più si potrebbe alzare il prezzo e due una volta arrivato Halloween e Halloween arriva più o meno insomma lo stesso giorno in tutto il mondo smetteranno di produrle quindi quei pochi che l'avranno saranno delle persone veramente fortunate che avranno la possibilità di avere una carta assolutamente introvabile in giro perché o la ovviamente la prendi dai collezionisti o cose del genere ma sarà comunque sia secondo me una carta che nel tempo arriverà ad avere un valore assolutamente incredibile anche perché insomma nel periodo in cui l'ho comprata stiamo parlando di al massimo 5-6 giorni fa quindi l'ho fatto da poco quindi vi invito a farlo pure voi andate su ebay cercatelo e trovate quella migliore offerente perché comunque sia ci sono diversi prezzi e che cosa stavo dicendo sì compratela e comunque sia mi era venuta in mente questa cosa cioè ad un certo punto ho detto no non posso resistere perché avevo visto un video molto carino delle top 10 carte più rare al mondo che non c'entrava a niente però c'era collegato anche questo video tra non la cronologia ma tra i suggerimenti di youtube e quindi l'ho visto ho detto porca cazzozza la devo avere per forza ok questo è tutto ragazzi vi ho lasciato per un bel po' con questa visione andiamo a vedere anche questa versione mega gang era un po' particolare molto fan made come abbiamo già detto questo era il nostro spasso con born diciamo che è più la spasso è più data nel fatto che abbiamo visto diversi siti per vedere la carta però questo era il video spero che vi sia piaciuto mettete come dicono in america i thumbs up quindi un bel mega like e ci vediamo al prossimo spasso con born non so se lo capirete voi io toglierò il nome cioè insomma rimarrà sempre quello ma senza spasso con born se no mi dice ah born hai messo più di 60 caratteri nel titolo bu per te vabbè comunque questo video finisce qua ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao